Desidero rivolgere il mio saluto a Don Massimo Angelelli, Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Scei, ai relatori e a tutti i partecipanti a questo evento, che vede la collaborazione di ben 11 federazioni di ordini professionali della sanità. È davvero un'occasione importante per approfondire la problematica della povertà sanitaria che colpisce centinaia di migliaia di persone in Italia. Il diritto alla salute è un valore irrinunciabile per tutti i cittadini. Un sistema sanitario equo e accessibile è la base per una società coesa e solidale, in cui ogni persona abbia la possibilità di vivere una vita dignitosa e sana. Con questa consapevolezza stiamo riformando il nostro servizio sanitario attraverso il rafforzamento dell'assistenza territoriale e della sanità di prossimità, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili. Inoltre è essenziale consolidare l'integrazione tra salute e welfare, riconoscendo l'interconnessione tra bisogni sociali e sanitari. In questo contesto esprimo la mia gratitudine alla pastolare della salute che opera instancabilmente per portare conforto e sostegno ai malati, agli emarginati e a tutti coloro che soffrono. Il suo è un impegno concreto, ispirato ai valori evangelici, questo rappresenta un esempio da seguire. Sono certo che con il contributo di tutti possiamo costruire un futuro in cui la salute sia davvero un diritto per tutti i cittadini, senza distinzioni di reddito, provenienza o condizione sociale. Un futuro in cui ogni persona possa avere la certezza di ricevere le cure di cui ha bisogno. Grazie e buon lavoro a tutti.